Francesco Carotenuto, era fisiologico dopo la partecipazione alla campagna elettorale qui per l'amministrativa Scafati dare un luogo d'incontro al vostro laboratorio politico Scafati Arancione, insomma questo è avvenuto, come state procedendo? Ma guarda, era fisiologico è la parola adatta, perché crediamo che una forza politica e sociale debba avere il proprio punto di riferimento su un territorio senza il quale si rischia di far confusione o si rischia di non dare delle risposte adeguate anche da un punto di vista dell'aggregazione, del punto di riferimento delle problematiche che riguardano la città. Abbiamo avuto una grande partecipazione e che ci ha lasciato entusiasti grande fiducia da parte della cittadinanza, dei simpatizzanti, delle persone che hanno voluto renderci omaggio e soprattutto rinnovarci la fiducia che ci sarà data già durante la campagna elettorale. Questo a dimostrazione che le battaglie che stiamo facendo e che porteremo avanti sono quelle che riguardano il bene comune e la comunità. Non ci fermiamo, stiamo portando avanti una serie di battaglie che abbiamo già sposato durante l'inaugurazione della sede e ritengo sia necessario cominciare già a illustrarla che è il lavoro accessorio. Noi siamo una forza politica molto attenta al tema principale che è causa della fuga dei cervelli, è causa della fuga dei miei coetani, delle nuove generazioni che è il lavoro. Ebbene noi stiamo preparando un progetto che è già stato fatto negli anni precedenti ma bocciata dall'amministrazione Liberti I dall'assessore Grandito ed è il lavoro occasionale accessorio. Questo prevederebbe di dare lavoro in maniera occasionale a persone precari, studenti, lavoratori, pensionati che necessitano di poter lavorare sul proprio territorio senza dover utilizzare uno strumento abbastanza discutibile come quella di affidare dei lavori magari a ditte di dubbia moralità e che quindi possono essere fatte da cittadini scafatesi che necessitano di lavorare sul nostro territorio. Ecco ci stiamo preparando e nel breve periodo avvieremo una raccolta firme per poter lavorare sul territorio insieme alle forze politiche e perché no lancio il mio messaggio anche all'amministrazione affinché possa lavorare insieme a noi su questo grande progetto che è uno strumento di civiltà per il nostro territorio. La vostra collocazione è cambiata dalle amministrative, insomma c'è un'evoluzione. Quali sono i vostri punti di riferimento? Guarda, noi innanzitutto rispettiamo i nostri elettori, li rispettiamo ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo deciso con immensi sacrifici di dare spazio alle nostre idee. Non è un caso che la nostra nomenclatura sia preceduta da un importante nome che è laboratorio politico. Laboratorio politico perché crediamo che ci sia all'interno di un gruppo politico che abbia delle idee ben definite la possibilità di poter lavorare a prescindere da una collocazione ben precisa. Anche se i nostri valori sono quelli circoscritti e chiari e si riconducono ai personaggi storici che io ho alle mie spalle che sono Pertini, Berlinguer, Lamontalcini, Mandela. Quindi i nostri valori, le nostre idee sono quelle. Da un punto di vista politico noi manteniamo la nostra autonomia sul territorio. Abbiamo scelto di portare questa nostra lista che è stata quella più giovane, come sapete, alle amministrative del 2013 e di mantenere questa nostra collocazione, questa nostra identità che con il nostro programma ci porta ad essere comunque una forza politica, seppur extraconsiliare, indubbiamente spina nel fianco e opposizione seria e costruttiva all'amministrazione Aliberti.